Io parlerò. Ho ragione io. Siamo noi gli occupanti. L'Ucraina non fa parte dell'Unione Sovietica da molto tempo. Che fegato questa donna che dice la verità in faccia a un funzionario russo a caccia di riservisti da mandare al fronte. Magari il ragazzo che le sta accanto è il figlio. Pure lui incalza l'uomo di Putin. Volete usare armi nucleari contro di loro? Siamo a Nalchik, nel Caucaso, lontani da Mosca e San Pietroburgo. Ma anche qui qualcuno resiste, protesta. Se siete preoccupati voi, perché dobbiamo andarci noi a combattere? Ecco perché tanti uomini stanno fuggendo dal paese. Ne passano migliaia al confine con la Georgia. Peraltro attaccata da Putin nel 2008, una delle tante guerre del padrone del Cremlino, che prova a rifare con tutta l'Ucraina quello che ha fatto otto anni fa con la sola Crimea. Occupare con le armi e poi annettere, grazie a un finto referendum. Che gli serve per dire? Adesso questa è Russia, è guai a chi la tocca. Da Donetsk e altre zone del Donbass in mano a russi e separatisti filorussi arrivano scene penose. La funzionaria del seggio chiama raccolta la gente, che entra diligentemente per mettere la croce. C'è chi si fa il segno della croce, ma il Consiglio ucraino delle chiese e organizzazioni religiose fa un appello. La sovranità dell'Ucraina si estende a tutto il suo territorio. Nessun paese del mondo riconosca gli pseudo-referendum. I primi dati parlano del 97% di sì. Forse quel 3% di no è per non rendersi del tutto ridicoli, senza riuscirci. Intanto lo scudiero di Putin e di Edev minaccia ancora l'uso di armi nucleari. Anche se il rischio atomico più concreto per ora è legato alla centrale di Zaporizia, dove continuano a piovere missili. Una fuga radioattiva sarebbe un disastro nel disastro.